salve amici oggi annunceremo il treno intercity 6 5 5 da 20 miglia a milano centrale il treno intercity 6 5 5 di tren italia delle ore 4 e 51 per milano centrale è in partenza dal binario 5 ferma bordighera sanremo taggia arma imperia alaschio albenga finale ligure marina savona genova piazza principe voghera padia milano rogoredo buongiorno benvenuti a bordo del treno intercity 6 5 5 il treno si fermerà a bordighera sanremo taggia arma imperia alassio albenga finale ligure marina savona genova piazza principe bughera pavia milano rogoredo arrivo a milano centrale alle ore 9 si prega cortesemente di abbassare le suonerie del telefono per non disturbare gli altri viaggiatori ed è vietato fumare sul treno e per motivi di sicurezza manteniamo la distanza sociale almeno di un metro e la mascherina va indossata a bordo del treno trenitalia vi augura buon viaggio siamo in arrivo a bordighera siamo in arrivo a sanremo siamo in arrivo a taggia arma siamo in arrivo a imperia siamo in arrivo a alassio siamo in arrivo a albenga troverete il treno regionale 12 2 5 0 da savona a 20 miglia delle ore 5 e 46 partirà dal binario 3 siamo in arrivo a finale ligure marina troverete il treno regionale 12 2 8 6 da savona a 20 miglia delle ore 6 e in arrivo al binario 2 mentre troverete il treno regionale 12 2 8 4 da savona a albenga delle ore 6 e 01 e in arrivo al binario 4 invece che dal binario 2 siamo in arrivo a savona troverete il treno regionale 33 56 da genova brignole a 20 miglia delle ore 6 e 18 e arriverà dal binario 2 siamo in arrivo a genova piazza principe siamo in arrivo a boghera siamo in arrivo a pavia troverete il treno regionale 10 4 5 7 di treno nord da milano greco pirelli a piacenza delle 8 e 25 e arriverà al binario 2 siamo in arrivo a milano rogoredo troverete il treno freccia rossa 97 03 da perugia a torino porta nuova delle ore 8 e 48 e arriverà al binario 7 siamo in arrivo a milano centrale termina la corsa del treno intercity 655 da 20 miglia a milano centrale grazie di aver viaggiato con trenitalia trenitalia vi augura buona giornata